L'ambasciatore italiano di Nuova Delhi, Daniele Mancini, è ritornato nella capitale in Indiana dopo due settimane a Roma, richiamato dal Ministero degli Esteri italiano in merito al parere negativo che era stato manifestato a metà dicembre dalla Corte Suprema italiana in merito alla istanza presentata da Salvatore Girone. Intanto il governo italiano è sempre più deciso a far rimanere Massimiliano da Torre in Italia anche dopo la scadenza del permesso del concesso al fuciliere di Marina di Curarsi nel nostro paese che scade il prossimo 13 gennaio. Lo stesso ministro della difesa Pinotti ed anche il titolare del Dicastero Esteri, Gintiloni, hanno detto che per il momento il fuciliere italiano non torna in India.